Gli esperti concordano che un'accurata valutazione della composizione corporea sia uno strumento prezioso nella valutazione dello stato di sviluppo e nutrizionale sia dei neonati pretermine che di quelli nati a termine. Infatti, anche nella prima infanzia, il rapporto tra massa grassa e massa magra può fornire importanti informazioni sulla salute futura del bambino. Fino a tempi recenti, mancava un metodo pratico per valutare con precisione e facilità la composizione corporea nell'età neonatale. Questo ha significativamente limitato l'impiego delle misurazioni della composizione corporea sia nella pratica clinica che nella ricerca. Ora, con l'introduzione del P-Pod Infant Body Composition System della Life Measurement Incorporated è possibile ottenere misurazioni della composizione corporea del neonato altamente accurate con l'impiego di una tecnologia sicura, di dimostrata efficacia e non invasiva. I ricercatori e medici possono avvalersi dei dati della composizione corporea del neonato per monitorizzare e modificare gli effetti del supporto nutrizionale, sviluppare dati normativi per la valutazione dei parametri di crescita del bambino, determinare cresciti infantili precoci associate a rischi per la salute futura e studiare i criteri di dimissione dai riparti di terapia intensiva neonatale, dove le valutazioni si basavano in precedenza principalmente sul peso corporeo del bambino. Il P-Pod si avvale di un pletismografo a spostamento d'aria, la metodica più innovativa disponibile ad oggi, in grado di fornire stime veloci e facili della massa grassa e massa magra del neonato. La pletismografia a spostamento d'aria è la stessa metodica impiegata nel BOD-Pod, Body Composition Tracking System, che è stato impiegato per la valutazione della composizione corporea di adulti e bambini dal 1994. I principi di funzionamento sono simili a quelli del metodo di pesata idrostatica, ma la pletismografia a spostamento d'aria impiega l'aria anziché l'acqua. Questo significa che la misurazione è significativamente più facile e comoda, specialmente in casi particolari come negli obesi, negli anziani, nei malati e nei disabili e rende la metodica ideale per la misurazione dei neonati. Con la pletismografia a spostamento d'aria, la massa grassa e la massa magra vengono stimate impiegando un classico metodo densitometrico. Questo richiede l'uso di una misurazione diretta della massa corporea, con una bilancia di precisione, e del volume corporeo con l'impiego di una camera d'aria. La quantità di spazio che il neonato occupa nella camera, ottenuto tramite le leggi dei gas, viene utilizzata per determinarne il volume corporeo. Le informazioni riguardanti la massa corporea ed il volume corporeo vengono quindi utilizzate per calcolare la densità corporea. Partendo dal presupposto che la massa corporea è costituita da due componenti, massa grassa e massa magra, ciascuna delle quali con una densità nota, la densità corporea può essere utilizzata per calcolare la quantità di grasso corporeo del neonato. Il P-Pod può fornire misurazioni del peso corporeo e stimare la composizione corporea di bambini con peso tra 1 e 8 kg. Inoltre, il P-Pod offre un ambiente di misurazione non invasivo, è sicuro e si adatta alla maggior parte dei comportamenti neonatali, incluso il movimento, una quantità limitata di pianto, l'urinazione e la defacazione. Oltre all'ultimo rapporto costo-beneficio, il P-Pod non necessita di particolari certificazioni tecniche per essere utilizzato. L'addestramento richiesto per imparare ad usare la metodica è minimo, visto che il software guida passo per passo l'operatore nel processo di misurazione. Ciascun P-Pod è un sistema completo e pronto all'uso. Tutto ciò che è necessario far funzionare l'unità è incluso ed il comodo carrello mobile consente di portare il P-Pod al letto del bambino o dovunque necessario per le valutazioni. Il P-Pod viene utilizzato avvalendosi di un touchpad, una tastiera ed uno schermo computer integrato. Le componenti principali del P-Pod includono una bilancia per la misurazione del peso corporeo e una camera d'aria per la sima del volume corporeo. Il vassaggio di un'altra della camera d'aria è completamente estraibile, consentendo un agevole posizionamento del neonato all'interno della camera. Viene fornito inoltre uno schermo protettivo per contenere eventuali fluidi corporei all'interno del vassoio della camera. Le numerose dotazioni per la sicurezza e il comfort del neonato di cui il P-Pod è fornito includono sistemi di controllo della circolazione dell'aria e della temperatura, che forniscono un microambiente termicamente stabile nel corso della misurazione. Ulteriori dotazioni di sicurezza includono una costante monitorizzazione delle temperature e dei livelli di anidride carbonica nella camera d'aria, un pulsante di spegnimento d'emergenza ed un sofisticato sistema d'allarme. Sono inoltre inclusi gli standard di taratura per valutare il corretto funzionamento del P-Pod. Un P-Pod test completo dall'inizio alla fine richiede approssimativamente 5 minuti. Per assicurare un risultato accurato è molto importante che i neonati siano nudi e che abbiano i capelli appiattiti con olio per bambini prima dell'inizio del test. Per lo stesso motivo neonati con capelli ricci o con molti capelli dovrebbero indossare un cappuccio fornito dalla Life Measurement Incorporated per comprimere i capelli nel corso della misurazione della composizione corporea. La procedura del test comincia con una calibrazione automatica del volume della durata di 2 minuti. Nel corso del processo di calibrazione altre parti del test vengono effettuate. Istruzioni sullo schermo guidano l'operatore passo dopo passo per tutta la sequenza del test. Mentre la calibrazione del volume è in corso, le informazioni del neonato vengono digitate nel programma o richiamate dal software se il neonato ha già fatto un test in precedenza. Successivamente viene misurata la massa del neonato usando la bilancia del P-Pod. Questa misurazione richiede dai 6 ai 20 secondi a seconda del movimento del neonato. Una volta completati l'inserimento dei dati e la misurazione della massa, la calibrazione del volume è solitamente terminata. A questo punto il neonato viene messo sul vassoio della camera d'aria per la misurazione del volume. La misurazione del volume dura 2 minuti. Nel corso della misurazione del volume il neonato è ben visibile in ogni momento attraverso un'ampia finestra nella camera d'aria. Al termine della misurazione del volume la porta della camera d'aria si apre automaticamente segnalando che il bambino può essere tolto dal vassoio. Nel frattempo i risultati del test di composizione corporea vengono visualizzati sullo schermo del computer e salvati. I risultati possono essere stampati e si possono generare relazioni personalizzate basate su parametri specificatamente selezionati. Ricordate, se per qualsiasi motivo il P-Pod test venisse interrotto è possibile ripeterlo tutte le volte che si vuole, perché è veloce e non invasivo. Il P-Pod fornisce una nuova opportunità per misurare nel tempo le variazioni della composizione corporea del neonato in un formato facile da visualizzare, stampare ed analizzare. Questo include la monitorizzazione delle variazioni longitudinali della composizione corporea e la loro visualizzazione in formato grafico. Il P-Pod fornisce una nuova opportunità per misurare nel tempo le variazioni della composizione corporea del neonato in un formato facile da visualizzare, stampare ed analizzare. Questo include la monitorizzazione delle variazioni longitudinali della composizione corporea e la loro visualizzazione in formato grafico.